Buongiorno ragazzi sono Vale03 Oggi appunto vi volevo far vedere appunto che su Ultimate Team ovviamente i giocatori mi hanno rotto i coglioni mi hanno rotti i coglioni i giocatori di Ultimate Team perché hanno sempre la stessa squadra come potete vedere sempre questi 4 giocatori no, si questi 4 giocatori Allison, Rashford, Roberto Firmino e Jimmy Vardy che sono i buggati e li hanno sempre in squadra sempre in squadra io ho una squadra diversa da tutte queste squadre che io incontro perché incontro sempre la stessa squadra adesso vi faccio vedere questi qua hanno Felipe Anderson, Roberto Firmino, Vardy come vi ho detto poi Sidgurson, Chamberlain, Rashford, Alonso, Socrates, Sanchez, Valencia e Allison poi vabbè fuori ci sono altri giocatori che tutti hanno tutti hanno perché tutti hanno una BPL tutti hanno quell'attacco tutti hanno Rashford tutti hanno bene o male Allison e molti hanno tipo Socrates come potete vedere fuori c'è Jesus, Lacazette, Marez che è un po' meno ma Lingard anche molti ce l'hanno insomma ragazzi hanno sempre la stessa squadra mentre io ho una squadra diversa come vi ho fatto vedere ieri adesso vi volevo far vedere questo gol pazzesco di Lorenzo Insigne che ho fatto io aspettate un attimo azioni salenti andiamo il gol del 4 a 1 inutile perché ovviamente ho buscato per tutta la partita poi adesso vi faccio vedere questo gol pazzesco allora Kolarov cambia per Lazari al centro poi Lorenzo Insigne fa questo fantastico gol a giro rivediamo questo gol incredibile di Lorenzo Insigne Lazari al centro Insigne come potete vedere a giro la colpisce praticamente con il laterale del piede e va a segno e ovviamente questo è un giocatore che ha pagato 100.000 crediti non i giocatori che c'ha lui da 1.000 crediti vabbè ragazzi di ciao e ho fatto vedere più o meno quanto questo gioco sia macchinoso e un gioco con sempre gli stessi avversari come potete vedere io ho una precisione di tiri pazzeschi perché io pazzesca perché io tiro poco ma tiro sempre in porta infatti Valenfla ha 5 tiri in porta su 6 quindi 83% di precisione di tiri lui 40% ma anche il 50% di precisione di tiri ogni tiri che faceva andava in alto solo quei 4 tiri che sono entrati e vabbè ragà questo è FIFA ci riccia